Ancora migranti sulla rotta balcanica, una donna e i suoi quattro figli in tenera età trovati in un carro merci alla stazione di Opicina, accolti dalla Caritas. Documenti che dimostrano la richiesta d'asilo in altri paesi della rotta balcanica gettati nei boschi del Carso per ottenere l'accoglienza in Italia. Ben più di tre le opere iniziate dalla giunta a Cosulini, l'ex sindaco replica le dichiarazioni del suo successore e aggiunge gli offrirò una camomilla. Principe, Varsila e altre crisi, c'è una parte di Trieste che non ha futuro, così il segretario spici GL Adriano Sincovic a sveglia Trieste. Polemica per la possibile vendita di villaggi consta, ma l'assessore Giorgi chiarisce e con Ricavato vogliamo coprire i costi del centro diurno disabili. Si è ripetuto nel pomeriggio il rito di San Nicolò in moto, raccolti quasi 24 mila euro, tanti regali donati nel tragitto cittadino ai bimbi meno fortunati. Al magazzino delle idee si inaugura domani la mostra di foto di scena di due celebri film di Fellini, La Dolce Vita e Otto e Mezzo. Buonasera dal telegiornale di Telequattro, una donna siriana, una mamma con i suoi quattro figli d'età compresa tra i 5 e i 10 anni migranti sono stati trovati su un treno merci alla stazione di Opicina, sono stati accolti dalla Caritas. Vediamo. Una donna in fuga dalla Siria con i quattro figli piccoli tra i 5 e i 10 anni d'età è stata trovata dalla polizia di frontiera e dalla Polfer ieri mattina nei pressi dello scalo ferroviario confinario di Villa Opicina, a bordo di un carro merci proveniente dalla Serbia. La donna è stata trovata dagli agenti in seguito a una segnalazione del personale delle ferrovie dello Stato. I 5, attraverso la rotta balcanica, per la precisione lungo la tratta dove un tempo correva all'Oriente Express, viaggiavano al freddo di un vagone sul treno merci proveniente dalla Serbia e diretto a Ravenna, contenente materiale edile e argilla. Sul posto sono arrivati anche gli operatori della Croce Rossa e i vigili del fuoco che hanno aiutato la famiglia a uscire dal vagone, dando loro i primi soccorsi date le temperature piuttosto rigide. Madre e figli sono stati infine accolti in una struttura della Caritas in città. Le loro condizioni sarebbero buone. Gli operatori attendono che si riprendano dal lungo viaggio per ascoltare il loro racconto. Ancora argomento migranti, documenti che dimostrano l'accoglienza o la richiesta d'asilo in altri paesi della rotta balcanica gettati nei boschi del Carso per ottenere l'accoglienza in Italia e non subire il reimpatrio in Croazia o Bosnia. Oggi Telequattro è in grado di mostrarvi i tesserini recuperati sul territorio accanto agli ammassi di zaini, sacchi a pelo e vestiario. Marco Stabile. Gettano i documenti nei boschi per essere accolti in Italia che in molti casi i profughi in arrivo sulla rotta balcanica fossero già stati inquadrati nei sistemi d'accoglienza di Croazia, Bosnia o Grecia e poi si disfassero della documentazione oltre che dei vestiti comprovanti il lungo viaggio. Si è parlato molto spesso sui giornali e nei talk show. Questa volta Telequattro è in grado di dimostrarlo con i fatti. Questi due tesserini sono stati trovati proprio accanto a vestiario, zaini e sacchi a pelo abbandonati sul Carso. Il primo è il tesserino che viene rilasciato dalla Croazia e richiedenti asilo con tanto di numero di serie, data di nascita e luogo di nascita, in questo caso Bolli in Mauritania. Il secondo è il documento identificativo del Temporary Reception Center abbreviato TRC di Bira in Bosnia che viene assegnato a quanti entrano nel sistema d'accoglienza dei rifugiati nella Repubblica dell'ex Jugoslavia nel sito creato su indicazione dell'Agenzia delle Nazioni Unite sotto legida del IOM, l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni. In questo caso il documento è di un pakistano. Ovviamente qualora i migranti venissero trovati in possesso di documenti del genere scatterebbe l'immediato re in patrio nei due paesi che li hanno presi in carico per primi. Diversamente i giovani possono far valere il suolo italiano come primo punto in cui entrare nel sistema. Ciò viene poi ulteriormente rimarcato dall'aver indossato vestiti perfettamente puliti a quanto filtra da fonti investigative recapitati ad hoc dai passer quando vengono portati a destino, nonché dall'accortezza di eliminare oltre che zaini e sacchiappelo anche eventuali titoli comprovanti il passaggio nei Balcani come ad esempio dei semplici scontrini d'acquisto di alimentari o ricette mediche e blister di pastiglie come quelli documentati qualche giorno fa in Varrosandra perché scritti nella lingua del paese dove sono stati fatti gli eventuali acquisti eppure spesso con l'indicazione della località. Altre notizie raccolte in sintesi nel prossimo servizio di Gianluca Paladin. Una triestina di 88 anni è morta in un incendio nella sua casa a Milano. La donna stava dormendo avvolta in una coperta elettrica di quelle che si riscaldano. Forse per un malfunzionamento non ancora chiarito la coperta ha preso fuoco. L'anziana a causa dei problemi di deambulazione non è stata in grado di mettersi in salvo. La sua badante dormiva nella stanza accanto e quando ha sentito le urla è corsa a controllare ma non ha fatto in tempo a salvare l'88enne triestina. Questa notte la polizia ha sanzionato per ubriachezza molesta un italiano e un albanese. Entrambi si trovavano sulle rive all'esterno di un locale e a causa della notevole quantità di alcol in corpo si divertivano a importunare i passanti. Motivo per cui è stato necessario l'intervento di una volante. Gli agenti giunti sul posto dopo aver accertato i fatti hanno sanzionato i responsabili delle molestie. Hanno sottratto un martellone completo di sella da applicare a una scavatrice. È successo in via Fianona e se ne sono accorti gli agenti quando sono arrivati a verificare i fatti ieri mattina. I ladri hanno agito nella notte e sono entrati nell'area dove si trovava la scavatrice forzando il lucchetto di sicurezza del cancello d'ingresso. Ieri sera a Ring era ospite l'assessore regionale alla sanità Riccardo Riccardi. Tanti i temi che sono stati affrontati tra cui l'ormai noto nodo sul numero unico per l'emergenza e la sede più appropriata per gli operatori del 118. Allora vediamo l'estratto della trasmissione. Uno degli scenari cioè che la nuova centrale del 118 possa essere il Porto Vecchio. Uno dei grandi temi è che noi abbiamo una centrale di backup rispetto alla struttura di Palmanova che risponde a Brescia. Mi pare che questa sia già una risposta sufficiente per dire non è possibile che una struttura di backup vada fuori da questa regione. Questa potrebbe essere una delle soluzioni che consente se quella struttura continua a vivere a Palmanova di poter avere la necessità di trovare una collocazione in un altro punto della regione. Cos'è la struttura di backup? La struttura di backup è una centrale che nel momento in cui salta la centrale principale c'è quella che viene in soccorso e dà quel tipo di risposta. E lei dice potremmo fare in Porto Vecchio il backup? No, io dico che oggi c'è una struttura in via Farneto che risponde al servizio sanitario regionale che con una implementazione tecnologica potrebbe garantire questa funzione legata al backup. Scontro tra due forze di maggioranza perché Fratelli d'Italia dice no, eravamo noi che lo dicevamo. Guardi, io faccio... Com'è andato? Io non faccio l'assessore di Forza Italia, faccio l'assessore di tutti. Io le posso confermare di avere lavorato con Claudio Giacomelli, di avere lavorato con Giuseppe Nicoli. Quindi l'1-1-2? Sicuramente non si torna alle quattro centrali provinciali. Noi dobbiamo fare ordine attorno a queste cose. E fare ordine sarà avere i due numeri paralleli, può essere? Ma insomma io preferisco essere prudente rispetto a questo. Il Ministro degli Interni indica come il 112 sia il numero unico al quale il cittadino si deve rivolgere. Ed è evidente che noi dobbiamo cercare di dare tutte quelle risposte necessarie affinché il cittadino abbia le risposte in maniera efficiente ed efficace. La vera partita però riguarda altro, riguarda il coinvolgimento del personale perché il personale di sanità non è un centralinista. È operare un po' nella centrale operativa, un po' deve andare in ambulanza, un po' deve restare in pronto soccorso. Perché è quello il loro mestiere. Questa è gente che ci salva la vita. E noi invece di accusarli di dire di mettere a rischio la vita delle persone dobbiamo aiutarli e proteggerli e renderli più tranquilli nel fare il loro lavoro. Dopo il battibecco sulle opere pubbliche dell'altra sera a Ring che ha coinvolto Laura Famulari e al telefono il sindaco di Piazza l'ex primo cittadino Cosulini replica all'attuale sindaco. Sentiamo. Ma si immagini se io polemizzo con il sindaco poi tra l'altro ha vinto le elezioni e me lo ricorderebbe subito io posso al massimo offrirgli una camomilla perché l'ho visto nervoso. Che mi dica tre cantieri progettati dalla giunta Cosulini in funzione di quello che sta succedendo adesso. Non ci sta l'ex sindaco Roberto Cosulini e agli attacchi di Roberto di Piazza l'altra sera a Ring replica elencando tre opere più una che il suo successore avrebbe ereditato dalla sua giunta. Magari con la camomilla gli ricordo che i 50 milioni di cui si fa avanto adesso con le opere in Portovecchio sono il frutto di un primo progetto presentato al Ministero dei Beni Culturali nel febbraio del 2016 di cui abbiamo ottenuto finanziamento nel maggio del 2016. Gli posso ricordare i 4 milioni e 2 del progetto dell'Urban Center in corso Cavour ottenuti da noi, avviati da noi e che lui completerà. Gli posso ricordare il Pisus, quindi Palazzo Biserini, la pedalizzazione di via 30 Ottobre e tutta una serie di altre opere progetto presentato da noi, avviato da noi. Fin qui tre progetti richiesti da Di Piazza a cui Cosulini ne aggiunge un quarto. Se c'è una rotatoria indispensabile nella zona di via Flavia strada della Rosandra via Caboto è stata fatta con gli oneri di urbanizzazione dell'insediamento del monomarca che adesso ospita come noto lobby. Gli ricorderei anche che i monomarca lui li aveva bloccati, gli ricorderei che noi li abbiamo sbloccati con la sua posizione contraria all'epoca in Consiglio Comunale e che se ha inaugurato lobby e ha inaugurato anche la rotatoria lo deve l'amministrazione precedente. Salta l'accordo sindacale per la cassa integrazione straordinaria negli stabilimenti della Principe Gruppo Chipre di San Daniele del Friuli e Trieste che occupano in totale 184 persone. Lo annunciano in una nota congiunta Fai CISL, Flai CGL e Willa Will. Ieri durante l'esame congiunto avvenuto nella sede della Regione le sigle hanno ritenuto che non ci fossero i presupposti per raggiungere un accordo condiviso che prevede la cassa a partire dal 9 dicembre per una durata di 12 mesi a rotazione per tutti i dipendenti anche a fronte della dichiarazione di 25 esuberi per lo stabilimento di Trieste. La situazione di crisi economica e finanziaria iniziata nel 2018 ricordano i sindacati ha portato l'azienda a richiedere un periodo di cassa per sopperire alle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime ma stante le difficoltà finanziarie dell'azienda non è in grado di anticipare l'importo di cassa integrazione straordinaria ai dipendenti. I sindacati concludono che non possono avvallare la richiesta la CIGS dovrà essere presentata al Ministero e i tempi di erogazione dopo l'avvallo potranno richiedere anche 5 mesi. Durante questa attesa per le ore di CIGS i lavoratori non percepiranno reddito. E la crisi industriale di Trieste con prospettive ben poco rincuoranti per il 2020 ne abbiamo parlato stamani a Sveglia Trieste con Adriano Sincovic segretario generale della SPI CGL. Vediamo. Varsila via i licenziamenti nell'indotto di annuncio alla PSM Logistica per 21 dei suoi 38 dipendenti. Questione invece principe, cassa scoperta ai 25 esuberi chi pressalta l'accordo sindacale, i sindacati rifiutano di firmare l'intesa. Questo si lega a tutto il resto della situazione industriale, la feriera. Qualche giorno fa abbiamo fatto un'assemblea con il parroco di Servole e lui ci evidenziava come quasi ogni mattina sotto le sue finestre ci sono 50 persone, quasi tutti triestini, che chiedono un aiuto. Allora, io penso che bisognerebbe una volta ogni tanto parlare di queste questioni, cioè di come sta la città sul serio. Questo non significa che tutti i triestini stanno male, assolutamente. Trieste è una città che ha una sua forza, una sua dimensione economica, una sua ricchezza distribuita, però noi abbiamo una parte importante della popolazione triestina che non ha prospettive. Sto parlando di anziani soli, sto parlando di anziani al minimo, ma sto parlando anche di tanti giovani coppie che o avendo perso il lavoro o avendo altri tipi di difficoltà si trovano in condizioni veramente difficili. Quindi io penso che noi avremo un 2020 molto complicato perché queste notizie che riguardano il sistema produttivo, in particolare industriale, sono i segnali di una situazione che arriva alla fila, insomma. Noi abbiamo denunciato da gennaio del 2019 come sindacati confederali una situazione a Trieste che stava montando e che metteva in evidenza come 1.500 posti di lavoro, stiamo parlando di 1.500 famiglie, che erano fortemente a rischio. L'assessore al patrimonio, Lorenzo Giorgi, interviene sulla vendita di Villaggi Consta e getta acqua sul fuoco delle polemiche. È vero che si sta pianificando l'alienazione, dice, ma per costruire un luogo ad hoc a beneficio dei disabili. Sentiamo già Luca Paladin. La Villaggi Consta di fatto non viene più utilizzata da 12 anni per questioni di sicurezza, ma l'amministrazione intende dare risposta a quelle che sono le esigenze di una categoria debole andando a ripristinare un centro di urno nella zona. La possibile vendita di Villaggi Consta in Via Gessi, storica sede dell'Associazione Italiana Assistenza Spastici, ha generato delle polemiche nelle ultime ore. Ma niente paura, c'è in progetto di costruire un centro di urno proprio a beneficio di quelle persone che soffrono di disabilità anche gravi. Il restauro e la messa in sicurezza della villa costerebbe quasi 6 milioni di euro, motivo per cui si preferisce vendere e recuperare i costi del nuovo centro di urno che potrebbe insediarsi non poi così distante da Villaggi Consta. Le associazioni vorrebbero una riqualificazione di Villaggi Consta ma che dopo le stime fatte appunto dai nostri tecnici prevederebbe un investimento dai 5 ai 6 milioni di euro sulla situazione di una villa che è su quattro piani con tutta una serie di difficoltà, soprattutto di abbattimento, di varie varie tecnologiche. Ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Restate con noi. Ripartiamo con il ritorno di San Nicolò. Si mette in moto l'iniziativa benefica per aiutare le strutture che accolgono i bambini meno fortunati. Quest'anno sono stati raccolti quasi 24 mila euro. Lo sentiamo Bianca Navarra. Lungo corteo su due ruote scortato dalle forze dell'ordine con ritrovo in Piazza Unità d'Italia. Anche quest'anno in tantissimi hanno partecipato all'iniziativa benefica di San Nicolò si mette in moto dedicati ai bambini più bisognosi. È una bella iniziativa comunque ricavata ai bisognosi, a chi serve, insomma. È un modo per stare insieme e divertirsi. Quest'anno sono stati raccolti ben 23 mila 902 euro che andranno a favore delle strutture che accolgono i bambini meno fortunati come la fondazione Lucchetta Ota d'Angelo Rovatin di Via Vallussi e la casa La Madre di Via dei Navali. Quest'è già il San Nicolò in moto dove passeremo per tutti i fanotrofi a dare i regali ricavati con i gadget e delle magliette con i doni. Un'iniziativa che fa bene al cuore e che unisce sia il divertimento che un'intera città. Innanzitutto è divertente e poi si può strombazzare abbiamo i vigili urbani che si scortano e possiamo girare in città senza limiti praticamente e questo ci piace. E ha fatto tappa anche in questura per ricordare i due agenti uccisi nella sparatoria del 4 ottobre Matteo De Menego e Pierluigi Rotta e l'iniziativa benefica San Nicolò si mette in moto che è stata promossa appunto dal circolo recreativo Tommasi della Polizia Locale di Trieste il progetto consiste appunto come abbiamo sentito nella consegna dei regali ai bambini meno fortunati proprio nel percorso il corteo si è fermato anche in questura dove davanti al Famedio ha deposto un mazzo di fiori per ricordare i due figli delle stelle. Domani allo Stadio Rocco prima della partita fra Triestina e Modena il mito del calcio rosso all'abbardato Franco De Falco giocatore simbolo degli anni Ottanta verrà premiato dal comune di Trieste con il sigillo trecentesco abbiamo registrato una lunga intervista con Totò che andrà in onda lunedì sera nel corso del caffè dello sport allora sentiamo un'anticipazione legata al momento complicato della Triestina in campionato. Cioè in questo momento la squadra va aiutata la squadra a Trieste non può giocare col tifo contro secondo me in questo momento non è una squadra che può riuscire a passare la contestazione la contestazione ci sta una volta però non è una squadra che non dà io l'avevo vista anche a Cesena cioè è una squadra che lotta per cui io adesso non ho visto sì col Vicenza può aver sbagliato la partita e il derby sai una volta andati sotto possono aver avuto il momento di sconfondo va bene però è una squadra che io vedo sempre combattere quindi almeno io personalmente fuori cassa l'ho vista spesso. Da chi ripartire? Ci sono giocatori importanti Granoccio, Ferretti, Lambrughi, Costantino insomma c'è tanta roba qualitativamente. Mercoledì ti ripeto ero lì con gente di calcio gente di serie B e dietro di me leggevano la formazione Triestina in panchina Granoccio, Costantini cioè Gomez le altre squadre io credo che in pochi se li possano permettere io mi ero permesso di dire prima del partito col Cesena che uno dei dubbi che avevo era proprio sulla gestione di tanti buoni giocatori In C non è facile In C non è facile secondo me in Serie C ci vogliono i titolari e le riserve Da domani, giorno dell'inaugurazione fino a marzo al magazzino delle idee sarà allestita a cura dell'Airpac una mostra di fotografie di scena di due celebri film La dolce vita è otto e mezzo in occasione dei cent'anni della nascita del grande regista Federico Fellini l'abbiamo visitata in anteprima Questa mostra è in primo luogo un omaggio a Fellini nell'avvicinarsi del suo centenario che si celebrerà il 20 gennaio prossimo ma soprattutto è un racconto attraverso molte immagini attraverso due suoi capolavori La dolce vita è otto e mezzo Si chiamava Federico Fellini e lasciò la sua Rimini per andare a cambiare il cinema A Roma portò con sé una valigia di personaggi immortali che hanno raccontato l'Italia alle platee del mondo con una lucidità poetica e visionaria Per onorare il regista e l'artista poliedrico che il 20 gennaio 2020 avrebbe compiuto cent'anni l'ente regionale per il patrimonio culturale presenta la mostra Fellini La dolce vita otto e mezzo fotografie di scena dall'8 dicembre 2019 al primo marzo 2020 Le fotografie che presentiamo i manifesti le citazioni di coloro che hanno accompagnato Fellini in questi due viaggi straordinari permettono uno sguardo del tutto nuovo perché appunto non semplicemente non si ripercorrono i film ma si scoprono molti aspetti del tutto inediti sui due film quindi anche per coloro che conoscono bene le due opere è un'occasione per saperne di più e per coloro che non li hanno ancora visti per incuriosirsi 120 fotografie di scena mettono in luce fino a che punto due tra i suoi film più celebri La dolce vita e otto e mezzo abbiano contribuito ad affermare modelli di eleganza di gusto e di stile così nuovi e affascinanti da influenzare un pubblico molto più ampio di quello delle pellicole stesse e attualissimi ancora oggi le foto sono le foto a colori di otto e mezzo che mi sono state donate da Polo e Ronalda che era il fotografo di scena del film di cui sono diventato amico per dieci anni sono andato a trovarlo nella sua casa di Vassi quando lui si era ritirato e rovistando tra le sue cose ho scoperto una scatola piena di scatti compresi 260 diapositive a colori 180 miglia da Venezia a Trieste una settantina di amici in viaggio a bordo dei loro gommoni per la rievocazione storica che risale al 79 vediamo finalmente siamo riusciti ad arrivare a Trieste tutti quanti non è stato semplice però ce l'abbiamo fatta però ce l'abbiamo fatta ecco il gommone da Venezia a Trieste 180 miglia e una settantina di lupi di mare che sfidano il freddo e le intemperie per raggiungere il suggestivo capoluogo Giuliano una rievocazione che risale al 1979 questa è un'avventura che parte da tanti anni addietro e da tre anni che l'abbiamo fatta rivivere partiti ieri mattina alle 8 dal camping Fusine a Mestre e giunti alle 11 di questa mattina in piazza Unità d'Italia siamo arrivati tramite l'idrovia Veneta abbiamo fatto tutta l'idrovia Veneta siamo arrivati a Grado in un hotel in centrogrado ripartiamo un po' più leggeri perché siamo partiti carichi un po' di prosecchino adesso siamo arrivati quasi con difficoltà lo faremo bastare per arrivare a Venezia però troveremo qualche buon santo questa è la simpatia appunto dei gommonauti allora siamo in chiusura vi ricordo che se volete vedere i vostri presepi e gli alberi di Natale su Telequattro nel nostro telegiornale potete contattarci allo 040 300 500 oppure scriverci una mail a redazione chiocciolatelequattro.it vi ricordo ancora che domani mattina a Sveglia Trieste ci saranno ospiti Marino Andolina di Rifondazione Comunista e Alessio Briganti di Più Europa è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti